8.000 di ante! Ante! PUR! E' più duro! E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui su Far Cry 3! Nell'episodio scorso ragazzi ci eravamo lasciati in questo posto, dovevamo andare da Hoyt e non perdiamoci in chiacchiere. Parliamo, ah dobbiamo parlare con Sam, ok, parliamo con Sam. Ok amico, ti senti pronto? O ti serve ancora tempo? Prontissimo! Una volta che iniziamo, non si torna indietro. Ok! Allora, da questo punto in poi l'accesso all'isola, alle regioni dell'antica è il limitato. Eeeh, voi mi senti... Ok! Ho un coltello nascosto nello stivale, tu distrailo quando dico affare fatto. Ok, capito. Ah! Benvenuti ragazzi, entrate, entrate, sedetevi! Ode ma cinque carte, va bene? Sì? Che cosa posso offrirvi? Volete qualcosa da mangiare? Delle noccioline? No. Il poker, che roba! Chiedi a qualcuno per strada e ti dirà che è un gioco d'azzardo. Oppure parla con Sam e ti dirà che è tutto un blef. Vero Sam? Yeah! Yeah! Ma non lo è? Vero? Si tratta di farti giocare finché il banco non vince. Io rilancio. Vedo. Eh, spero io devo vedere le carte. Eh, ok. Ok, dieci jack. Dieci jack. Oh, dieci jack. Bello, eh. Vedo. Vai, vediamo tutto. Sti cazzi, c'è una coppia di dieci. Io c'ho una coppia di dieci. Vedo solo. Io vedo. Con una coppia di dieci, non è che posso fare tanto. C'è, c'ho una coppia di K mi ha superato. Aspettate. Ehi, chip. Oh, chip. Io, vale GRG. Luke 4316. Ah, no, non vale. Ok, va bene. Allora, dieci jack. Allora, eh. Se esce una Q e un nove. Tecnicamente scala. No, mi manca l'otto. Mi manca l'otto. Non posso fare... Eh, gioca. Eh, gioca. Eh, all in. All in, vai. All in. Io vedo. Io vedo. Ah, per... Ah, ah! Ce l'ho presa nel culo! Ah, ah! Oh, doppio coppia. Chip. Vale GRG. Quindi? Scusa. Nuova regola. Ah, guarda un po'. Abbiamo le stesse carte. Ah, ah. Perché non alziamo la posta? Che ne dici? Gem? Monster o Jason Brody. Come cazzo ti chiami non me lo ricordo. Ma quanto pensi che sia stupido? Giochiamo, ti va? Carte a sinistra, giusto? Mi sa che salta il giro. Eh beh, per forza. Ha un coltello nella goccia. Allora, ho visto la tua scenetta commovente con Riley. Mi è scesa una lacrimuccia. Beh, non è certo da me. Lo ammetto. Lo ammetto. Ti ho sottovalutato. Torturare tuo fratello. Distruggere metà del mio business. E Y, giocati la vita. E solo quello posso fare. Eh. Cioè, quindi se perdo solo... Che carte ho io, scusami? 5-8. Scala. Ma... Le cose vanno come vanno, vero? Io ti perdono. Su. Dimmi qual è il tuo prezzo. Tutti ne hanno uno. Voi siete solo burattini e noi tiriamo i fili. Piccolo. Ecco perché il sistema è stato ideato in questo modo. Si fotta il sistema. Giocati la vita. E solo questo posso fare, signorino. Non è che posso fare altro. Cioè, sei incastrato pure il filo. La coppia di quattro. Rimango con la coppia di quattro. Sai una cosa, Jason? Sarò molto buono con te. Sei un uomo di famiglia. Ti taglierò un dito ogni volta che perdi. Forse inizierò con... Con l'anulare. No, aspetta. Mi serviva! Oh, 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 Jason. Ora non possiamo più sposarci. Avresti potuto unirti a me. Avrei premiato ogni lavoretto con del contante. Fottiti! Non credere che la cosa mi piaccia. Dico sul serio. Non servono dieci dita per usare un coltello. Faccio questa roba da prima che tu nascessi. Fatti sotto, vecchio. Come fatti sotto, vecchio? Aspetta! Premia! LT! RT! LT! COGLIONE DI MIO! Mi hai deluso moltissimo, Jason. Non hai nemmeno controllato tuo fratello Riley. Dov'è? Tranquillo. L'ho venduto a un tipo veramente speciale in Yemen. Gli piacciono giovani. Io ti ammazzo! Ho amici molto potenti che ti troveranno ovunque. Non resterà più niente di te. OLETTI! Ah! Ah! Sono morto! Sono morto! Sono morto! Ah! Signorina! Sono morto! Quindi! Spero che la mia morte vi sia piaciuta. Cioè, spesso, sono morto. Finisce così. Vallo là per ammazzarlo e la prendo nel culo. Cioè, è complicato nel culo del loco. Ah, ecco qua. Eh, perfetto. Oh, 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 Jason. Ora non possiamo più sposarci. Avresti potuto unirti a me. Cioè, sta ricominciando ogni lavoretto con del contante. Sta ricominciando. Quindi ho sbagliato, scusami, non ho capito. Non credere che la cosa mi piaccia. Dico sul serio. Ho sbagliato. Non servono dieci dita per usare un portano. Sì, 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 sì. Faccio questa roba da prima che tu nascessi. Fatti sotto, vecchio. Ma che di nuovo? Premium. LT. RT. LT. C'è me... Oh, per! Non hai nemmeno controllato tuo fratello Riley. Dov'è? Tranquillo. L'ho venduto a un tipo veramente speciale. Sì, lo so. L'hai detto poco fa. Mi piacciono giovani. Sì, l'hai detto poco fa. Ho amici molto potenti che ti troveranno ovunque. Sì, l'hai detto. Oh, salta l'apparato. Oh, salta l'ho preso. Eh, sto cazzo, salta l'ho preso, eh. Non puoi vincere. Ho io la mano migliore. E perché hai paura, eh? LT. LT. Ah, sono caduto. Ah, ah. Tuo fratello è sulla pista. Non vorrei certo perdere il volo. Partirà in ritardo. LT. 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 Oh, oh. Aia. Oh, signore. Mi fai male. Ma sporco strano. C'è l'attività. RT. Oh, premia. Oh, no. Ho sbagliato, LS. E mo? Ho sbagliato. E mo? Ho sbagliato. Oh, ho sbagliato. Non ho premuto LS. Ma già ti sei pure fasciato il dito. Fantastico. Grande ragazzo. Oh, bellissimo. È andata meglio di quanto pensassi. Andiamo alla pista. Oh, devo andare alla pista tra dieci minuti. Fantastico la pista. Oh, mille metri. Mille metri. E levati di qua, porca. Devo andare alla pista. Lei non porta. No, 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 no. Eh, ti hai ripremuto Y per spegnere il fuoco. Mamma mia, quanto mi state tutti sul culo. Curate. Curate, curate, curate. No, 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 no. Ma porca zazzo. Come cazzo faccio uscire di qui? Ok, ok, perfetto. Levatevi. Mamma mia, mi sono tutti sul culo. Di qua posso passare? Ok, ok. Ma porca zazzo. Sì, 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 sì. Un dito nel culo lo preferisci. Un dito nel culo. Curate di nuovo. Ti è venuto Y per spegnere il fuoco. Quindi. Allora, ragazzi. Tra dieci minuti dobbiamo raggiungere assolutamente il coso. Il... Ma porca zazzo. Non morire, sai, eh. Non mi viene, mi stanno seguendo. Mi stanno seguendo. Ma che figlio di indrocchia! Ma! Quindi. Dobbiamo raggiungere il posto. E lo raggiungeremo nel prossimo episodio. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Ragazzi, abbiamo aperto il culo a Riley. Quindi, ragazzi, vi voglio bene. Al prossimo video. E ciao, ciao! Lo so che volete vedere cosa succederà. E va nel prossimo episodio. Ciao! Ah! Sì, esatto. Cioè, se non l'accendi comunque, cioè, puoi aspirare quanto vuoi. Io non ho mai fumato. Non ho neanche mai provato. Ma io presuppongo. Cioè, penso, eh. Da inesperto, cioè... Grazie. Grazie. Grazie.